È giunto il momento. Eris è pronta per il rituale di tributo finale. Questa è la nostra ultima e migliore opportunità per colpire Xivu Arath. So che può sembrare una mossa senza speranza, ma dobbiamo fidarci di Eris. Si è preparata a questo momento. Come te. È stato bello vederti giocare all'alveare, ma la cosa sta sfuggendo di mano. Se attivi di nuovo l'Ombliette, gli sgherri di Xivu ridurranno questo posto come Torubadu. Manchi di immaginazione, sottoposto. Presto vedrai le conseguenze dell'apostasia della tua padrona. Oh no! Xivu sta richiamando il divore a Leviatano. Esiste fin dai tempi del fondamento. Un osso duro. Io me ne vado. E dovresti farlo anche tu. Se resti, diventerai una chiazza in terra. Tu non andrai da nessuna parte. Questo è il culmine del patto che hai proposto. Assisterai al nostro trionfo. Operirai come uno di noi. Rallegrati, devota. Hai suonato il corno di battaglia. E la guerra è arrivata. Avanti, divoratore di Leviatani! Flaggello del cielo! Annienta la corte di mia sorella e offri le sue ceneri alla tua terra. Contractazioni mediacони di battaglia! Passiamo un altro che siostrazzi. Testata! L'empeche! L'epoca! L'empeche! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.